Buonasera e bentrovati in questo nuovo video. Sono Marzio Sala, Presidente dell'Infinity Dog e Direttore della Scuola per Educatori Cinofili. Oggi proviamo a rispondere alla domanda guinzaglio lungo o guinzaglio corto? San Martini del 2012 dichiara che il guinzaglio non deve superare il metro e mezzo di lunghezza. Questo è un guinzaglio allungabile con moschettone e la sua lunghezza arriva sino a tre metri. Questo invece è un guinzaglio normalissimo di lunghezza un metro e venti. Vediamo ora la gestione con Dago con il guinzaglio allungabile sino a tre metri. Buonissimo. Vediamo ora la gestione con Dago con il guinzaglio lungo un metro e venti. Come avete potuto vedere Dago non tira né con il guinzaglio allungabile né con quello normale. Perché? Perché io e lui abbiamo sviluppato un'ottima relazione e abbiamo imparato a rispettare i tempi dell'altro. Io aspetto lui e lui aspetta me e questo ci ha portato ad avere una passeggiata rilassante per entrambi. Cosa usare quindi? Entrambi vanno benissimo purché si rispettano le norme vigenti. Quello allungabile si può accorciare e allungare magari nel parco dove c'è spazio. La base è un buon lavoro di insegnamento della passeggiata al guinzaglio. Se vuoi conoscerci o avere un nostro parere scrivici una mail ad info-affinitdog.it, seguici sulla nostra pagina facebook affinitdog.educazionecinofila e sul nostro sito internet www.affinitdog.it. www.affinitdog.astr Grazie.